Gentili telespettatori, buona giornata. Vi racconto che uno scontrino crea un putiferio, una bibita e un'acqua e menta grazie. Da lì in poi succede questo perché gli avventori, i clienti sono due finanzieri in borghese che hanno ordinato acqua e menta e una bibita. Siamo a Pordenone, mentre Antonella Ruggero cantava in piazza 20 settembre per ascoltare il concerto gratuito. Molte persone sono sedute ai tavolini dei bar e due finanzieri si siedono in questo bar, in piazza. Gli portano le bibite e gli portano l'acqua e menta, mentre i due uomini della guardia di finanza hanno aspettato qualche minuto e poi hanno contestato ai titolari la mancata emissione dello scontrino. Da qui è nata una discussione perché a detta loro lo scontrino era stato fatto, ma non era stato consegnato perché non avevano ancora pagato la consumazione. Ma qui c'è qualcosa di contraddittorio che adesso vi racconterò. Cioè loro finiscono le loro cose e questo scontrino non arriva mai. Il bar dice, quando loro si sono identificati, ma lo scontrino noi lo portiamo alla fine perché voi potreste ordinare altre cose, allora poi facciamo uno scontrino su tutto quello che avete ordinato. Però prima avevano detto che lo scontrino era stato fatto, ma viene consegnato solo quando si paga. Quindi è contraddittorio. Come lo scontrino è fatto e te lo consegno dopo? No, lo scontrino lo faccio dopo perché aspetto che ordini magari qualcos'altro. Questa è una dichiarazione contraddittoria. L'avvocato Francesco Furlan, che era sul posto, ha visto la scena. Erano circa le 21.30. Il locale era strapieno. I due uomini della guardia di finanza in Borghese hanno ordinato due bibite, una volta ricevute, hanno aspettato un po'. Quindi hanno tirato fuori i tesserini affermando che lo scontrino non era stato emesso e dovevano fare un verbale. Ma il punto è, avevano pagato o non avevano pagato? Perché di solito lo scontrino, almeno voi lo chiedete. Dice, scusa mi porti lo scontrino che ti pago? O mi porti il conto? Perché se voi siete seduti al bar, realmente poi potete ordinare anche qualcos'altro, no? Giusto? Di solito funziona così. Poi ogni bar fa come vuole. O tu ti alzi e vai a pagare alla cassa e ti fanno lo scontrino, oppure tu ordini da bere, in alcuni casi ti portano subito, visto che sei in piazza, uno può anche alzarsi e andarsene senza pagare, no? Di solito ci sono dei bar che ti portano la consumazione direttamente con lo scontrino e paghi subito, no? Ti danno le bibi, ti dicono guarda sono 5 euro e paghi subito, non paghi dopo, perché così quando hai fini tu ti alzi e te ne vai e non c'è la possibilità che scappi, no? Come in alcuni casi succede. Quindi ci sono diverse modalità, diverse modalità per pagare al bar. Poi ovviamente c'è anche il bar che non ti fa lo scontrino, eh? Io ne ho visti a centinaia nella mia vita, centinaia e centinaia. C'è il bar che ti fa lo scontrino e c'è quello che fa finta di non sapere di che cosa si tratti. C'è lo scontrino, ma questo sconosciuto. Ecco, Antonio Mazzucchini, il titolare, ha cercato di spiegare la situazione, ma non hanno voluto sentir ragioni o vedere quello che mostravo loro. Dice un'assurdità, ho preso i nomi di tutti i presenti che possono raccontare cos'è accaduto. Lo scontrino solitamente non si dà al cliente fino a che non si paga, perché magari vuole fare altre ordinazioni. Però alle ciaccole, man mano che i camerieri prendono le comande, utilizzano l'iPad. Queste vengono registrate in cassa, faremo ricorso al giudice di pace. Pace fiscale, dice Salvini. Beh, insomma, bisogna capire anche esattamente quello che è successo. Perché se i due finanzieri si sono impuntati, vuol dire che c'è qualcosa che da questo articolo che ho letto sul libro quotidiano non trapela. Perché, come vi dicevo, non è che c'è un unico modo per pagare in un bar. Io, ad esempio, l'ultima volta ad Ostia sono andato alla cassa, ho ordinato, mi hanno dato un numero, sono andato al tavolo fuori e poi è arrivato il cameriere con lo scontrino. Io gli ho ridato il numero. Poi ho scoperto che si pagava anche il consumo. Il consumo ai tavoli aveva anche un prezzo. Se consumi al banco, se consumi... Vabbè, insomma, ci sono diversi modi. C'è dove paghi prima, c'è dove paghi dopo, c'è quello che ti fa lo scontrino e poi ti vai a sedere, si paga prima, o si paga prima a seduti, o si paga al momento. Qui bisogna capire il perché i finanzieri in Borghese... Cioè c'è qualcosa che non mi torna in questo racconto, perché lo scontrino non è arrivato subito. Ma se tu non hai pagato, o i finanzieri avevano pagato, bisogna capire se i finanzieri avevano pagato al cameriere e lo scontrino non è mai arrivato, oppure i finanzieri hanno bevuto e aspettavano lo scontrino. Però, insomma, se tu non paghi, qual è il problema? Lo scontrino viene messo nel momento del pagamento. Se tu non hai pagato, non mi hai fatto lo scontrino, sì, ma non mi hai ancora pagato. Cioè, capite che così come l'ho letta io questo articolo, realmente non è molto chiaro. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ricordatevi che c'è Teleitalia Seconda Rete con video di notizie politiche fai da te. Poi questi video sono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia, dove lì, se vi sono interessati, li potete condividere dove volete. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.